Si tratta di un cittadino la cui residenza risulta essere di Paderno Dugnano, si stanno cercando i familiari e non è stata accertata ancora la causa della morte. Sappiamo che sono cause di carattere naturale, non sappiamo se sia il freddo o meno, ma comunque nulla toglie rispetto alla nostra preoccupazione di questi giorni. Si era conosciuto dai nostri servizi dell'unità mobili che intervengono ogni sera, ogni notte, nelle strade della città per aiutare le persone senza tetto e purtroppo rifiutava le proposte d'accoglienza che gli venivano fatte. Secondo lei perché rifiuta queste proposte? Ci sono tante ragioni che portano alcune centinaia di persone senza tetto a non accettare anche soluzioni molto temporanee, riguardano spesso anche questioni individuali, personali, problematiche di vario genere che riguardano la singola persona. Certo è che questo non può essere per noi un motivo per non insistere ancora di più, vogliamo andare avanti, insistere ancora di più, proprio perché siamo molto preoccupati per la situazione che si determina in queste serate, in queste notti con temperature così rigide. Il sindaco Sala però in un post ha detto che non si possono costringere ad andare in questi centri dove possono essere aiutati. Diciamo che oggi non stiamo utilizzando alcuno strumento che li costringa, anche perché non puoi effettuare un sequestro diciamo di persone e quindi non puoi far altro che intensificare l'azione però che come ricordava il sindaco viene svolta proprio in questi giorni da operatori sociali e anche però da protezione civile e polizia locale insieme. Avete potenziato il numero proprio per queste giornate di post disponibili? Sì, anche se il nostro problema non sono i posti, nel senso che i posti letto noi li abbiamo, ricoveriamo 2400 persone ogni notte e abbiamo una dotazione di altre centinaia di posti che potrebbe anche perfino aumentare. Quindi il nostro problema non è il numero dei posti letto ma in questo momento è riuscire a far sì che tutte le persone che vivono per strada accettino le nostre proposte d'accoglienza. Quanti sono i posti di letto occupati in questo momento e quanti liberi? Sono oltre 2400 quelli occupati e abbiamo una dotazione che arriva a 2700 posti. Quindi l'appello è accettare di andare nei ricoveri a queste persone? Sì, diciamo che l'appello loro è di accettare ma in realtà è una questione che sta sulle nostre spalle perché dobbiamo essere noi a far sì che vadano nei ricoveri. Al di là dell'appello loro che ovviamente viene fatto ma dobbiamo insistere e insistere ancora di più con ancora più determinazione e rigidità perché non dormano per strada. Perché dormire per strada magari ti dà un'impressione di apparente libertà magari per alcuni però in questi giorni è un problema, è una questione che mette a rischio e a repentaglio una vita. A che punto sta la mappatura a Milano de Crociardo? Dal punto di vista del censimento vi è appena stata ma insomma siamo in grado di sapere già da tempo qual è il numero di persone per strada e quindi confermo il fatto che a noi manca ancora la capacità diciamo così di far sì che alcune centinaia di persone cosiddette diciamo irriducibili se vogliamo utilizzare questo brutto termine effettivamente utilizzino una dotazione di posti che è molto significativa. Grazie. Per dire 400 persone accolte qual è il rapporto stranieri italiani se si sa? Il censimento di solito parla del 70-30, 72-28. 72 italiani? No, 72 stranieri e 28 italiani. Grazie.